musica 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 un'altra cosa è quella ieri prima cazzo guarda che figata le stelle bello ora ora di fare incidenti bene allora profilo fine bris the bear operaio in prova mettiamo caposquadra siamo operaio in prova ma non 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 è il non siamo solo io ma ci posso e ora cosa vuoi fare qua vengo che ti butto su l'ultima di divertirte ah si va là no aspetta guarda che ti fai danni costa mantenere il camion guarda mica poco costa tutti i camion io non pago affitto non pago camion ma il cazzo avvicinati per me mi da area gru eh dovresti essere ah bestia da piassare tutti questi povero altro che giochettino facile facile poi dai ma io mi siamo oh ma sei un giochettino mi sono incontrato provo a gacciare come il meglio cosa succede no ma è trapassa ah ma è vorrei a fare una roba però se meglio che non fasse faccio non sei che faceva danni ma dai io muo a registrare io muo a fare una cosa da bene aspetta aspetta ahhh che si poi ne inverticare ah ha 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 mi sono pure incontrato ah giù nooooo che è successo potete per dire abbandonare la partita no magicamente Non lo sapevo. Parco. Quanti danni ha il camion adesso? Dai, ma stai qua. Bisogna ti stare attento per chi vola. Mi ha buttato fuori. No, che brutta persona. Era indeciso tra due tasti, però ho scelto quello meno invasivo. Era per la scienza. Ah, rovescia a carico, c'è anche scritto per adrizzarlo. No, no. No? Sicuro? Beh, ora... per la scienza questo è tutto. No, ti mando togli in gamboge a qua spaiati, porti. Eh, mi trovo il personaggio spastico. Cosa c'è che sta succedendo? Oh, ce l'ha piantata per un secondo. Parà, c'è ancora... C'è ancora l'effetto sci anche qua. Anche sul farm è la stessa cosa. Adesso meccac... Ecco lì, ecco lì, Pono. Bellissimi. Ecco lì. Meccacchi ho messo in corteo, guardi. Ah, gli dovrebbe agganciarlo. Eccolo qua. Eh, perché la cura ha fatto tipo tre giri su se stessa e ha preso un'auto in Pino? Attenzione! Danni in corso. È stato bellissimo, ha lottato tipo tre volte. Eh, perché non... cosa succede adesso che non va più? Eh, c'è un problema. L'uno? Sì. Gira da solo, non facendo praticamente nulla io. Mmm. Che cacchio! Guarda inerzia sta bestia qua. Là. Sai che c'è qualcosa in mezzo che mi intriga. Cominza a avere una serie. Guardami. Guarda che è duro. Cioè, la gente lo gioca e pensi. Pervertito! Ho detto a posto ma non vuoi ridi! Aspetta, adesso qua... Eh, guarda ha fatto un teletrasporto. Yes! Sì. Hai già preso di panei? Madonna! Ma che figata! Ho trovato con la mia macchina, che figata! Mamma mia! Bellissimo! Ma in quanto il vecchio, ma questo qua... Anche lui può fare... Far fuori un po' lì alla gente. Stronzi! Cazzo la strada! Eh, ma io che dove? Dove vai sti guardi? Madonna! Un po' lì al mio! Ho stato pure... Ho pure... Ho pure vagato! Chi... Che altri? Oh! Ma è che evidenti sia però... Vai vai, qui sì? O qui nel legno? Il legno? Il panele di legno del muro prefabricato. e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci